Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video video da breve, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò dove si trova la statuetta di Kalus. Quello che vi basterà fare è avviare recissione rabbia, dopodiché vi basterà avanzare fino a quando non attiverete la prima leva. Una volta attivata dovrete effettuare lo stesso percorso che vedrete in video e la statuetta di Kalus la troverete sotto la piastra. Detto questo spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!